Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video quest'oggi andiamo a vedere la mia prima volta in carpodromo prima in assoluto con la Robasienne dunque ragazzi lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti venerdì uscirà la seconda parte con un po' più di catture e comunque tanta ignoranza forse quasi più di questa e se questo video raggiunge i 120 like prendo una canna per pescare a method e ci torniamo e facciamo gara Robasienne vs method direi di rompere l'altro tempo e via con il video iscrivetevi al canale sindi e carpe dice sarà 20 kg di pellet ormai sul fondo che sia da buttare sotto che sia da tenere a gara guarda che sbolo ma quanto, quanti chicchi butti alla volta? boh 5-6 pellet ah ok mi prima ieri un fiadrio abbondare giusto per fare il suono ovviamente qua a sbacotare con la punta così fai stesso arriva, arriva anche all'altro tu vedete che già fa l'elastico qua sotto vuol dire che non le tarà perfetto sono un maestro buono da dio pasturazione perfetta calcolare anche al vento il tempo qua di covid meglio la lebra che il covid ma perché è un gran movimento politico le pesa del comunismo movimento covid questo è un'alborea molto dopata prossimo adesso vendo il panchetto metto uno che si rai da carp fishing si sta bello e comodo esattamente il sacramento e il sacramento mi diverti più e più che voi altri tutti i mesi insieme dio che non preso figlia ciao qua deve definire ciao qui sono? qui sei tu? che sono? non viene su burda di dio ciano ciappa 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 guarda come ciappa guarda come ciappa guarda come ciappa porco dito di allungare ciappa 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 è un cancare un po' morbido con le lasti inoltre inoltre guarda che sono dritto a tirare sono mica non sono più abituato ecco ecco erano ecco l'elastico e questo è il problema sono proprio quasi poco sopra e andarmela mamma dopo qua atto un fiato di scoccia nero scoccia nero scoccia nero che così dopo li saldiamo allora adesso posso strippare eh vabbè la canna era vecchia chissà magari era anche già battuta eh un attimo perché prima doveva tirare il suo pezzo ciano sono pieni di difficoltà guarda che ci si scontano su un cazzo eh eh vabbè no perché è l'altro dietro non calvo di ecco qua ma con una ho tre gambe e non ho tre bracci tira ok no ok dentro 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 ho anche il dog in una brutta maniera però ho vinto la canna però vedi tanto la canna vecchia eh era bella grossa che era là era davanti al cannetto pivanti beh io ho visto la maniera non so è come se fosse un pesce piccolo non capisco che porta in giro? no la ha mossa un fiantino appena lo muove la prende lo muove un fiantino porta sotto porta sotto sta ora però ho il pellet e un mais figa ha preso ha portato via secondo ti? no ho la se carbura no vieni qua figa ingoiato e via pesca sul fondo tre pezzi e pastura bene e pastura bene ha tu mai visto il film si vabbè il clip del film del film francese di questo qua della gara di pesca quella in bianco e nero che arriva sto qua che fa la canna con tutti la preparati tipo pesca al colpo tutti la preparati tipo quattro cinquecento persone mastea canne be arriva sto qua fil de spago ramo trova sulla riva fissone? si ha fatto una fuga impressionante sai che lei è un gatto comunque adesso solo pellet vai sto usando l'elastico del 2 pieno io tra l'altro eh bea carpa eh asena bea carpetta asena bea carpetta io ho capito niente orchi finalmente sono arrivati in pastura ho lenza diretta dello 018 orco tra l'altro l'allievo supera il maestro che cosa a quanto pare vedi in mezzo che ho le pellet che ho tirato all'inizio le pellet che ho tirato all'inizio